La Muppet e la Keraton La Muppet, la Flynet e la New Team figurano tra le migliori quattro. La quarta squadra sarà la vincitrice dell'incontro tra la Mambo Football Club e la Holiday Sporting Club. La partita tra le due squadre si sta svolgendo con molto accanimento. Dai Giulia! Ma guarda, non pensavo che Giulia ne avesse tutte queste tifose. Che ci trovi di tanto strano? È un bravo capitano e un ottimo giocatore. In più è anche bello e simpatico. È normale che le ragazze facciano il tifo per lui. Per usare Giulia! Non capisco che cosa hanno da gridare. Sapete cosa penso? Che certe volte le ragazze non capiscono niente. Non basta essere belli per giocare al calcio. Guardate la mia gamba, non è bella? Eh, a dire la verità, a me sembra una gamba piuttosto corredda. Che cosa? Ecco, vedo! Le sue sono molto più lunghe! Va bene ragazzi, ritornate pure qui. Basta con l'allenamento. Venite qui! Ma non gioca? Non capisco perché sia seduto in panchina. Forse l'altra squadra è talmente debole che non vale la pena che lui giochi. È vero, hai ragione. Nessuno può resistere a Giulia nel più forte. Sì, però ti confesso che mi sarebbe tanto piaciuto vederlo giocare. Anch'io! Oh, che lo dico! Però sono sicura che se la mambo sarà in difficoltà scenderà in campo. Ne sono certa anch'io! Forza, Holiday! Vogliamo vedere giocare il nostro capitano Julian Ross! Come? Che cosa? Ci stanno prendendo in giro! Che Julian Ross giochi o no per noi non fa proprio nessuna differenza. Vedrete! Inizia la partita! Se Julian Ross non gioca non vale neanche la pena di guardare la partita. Non dire sciocchezze. Domani ci toccherà giocare con una di queste due squadre e noi siamo venuti qui soprattutto per osservare molto attentamente i loro moduli di gioco e la loro disposizione in campo, è chiaro? Sì, certo. Guardate là, ci sono altri giocatori che dovremmo essere in grado di marcare oltre a Ross. Hai ragione, sembra che anche quei due vadano molto forti. Eccomi! Azione velocissima della Mambo. Oh, che scatto! Passaggio lungo verso Smith. Che è incerto se tirare o meno. Smith decide di passare a Clegg. Clegg tira e segna un bellissimo gol. La Mambo è passata in balcana. Da quello che ho visto fino adesso anche il numero 9 è da marcare stretto. Secondo me non si tratta di marcare questo o quel giocatore. bisogna tenere d'occhio tutta quanta la squadra. Non è vero, Ollie? Esatto. Se riusciamo a vincere questa partita, domani saremo noi a giocare la semifinale contro la New Team. E se domani perdiamo sarà l'ultima partita di Julian. Sarà l'ultima volta che scendere in campo per giocare. Che cosa c'è, Annie? Dove stai andando? Torna subito. La Mambo è partita subito all'attacco. E si è aggiudicata molto in fretta il primo gol. Julian non gioca nemmeno oggi. Nonostante la mancanza del suo fuoriclasse Julian Ross, la Mambo sembra cavarsela egregiamente. Ti prego, Julian, riguardati. Cerca di non farmi preoccupare più, per favore. Oh, signora. Ollie? C'è la segretaria della Mambo. Ciao, Annie. Ho bisogno di parlarti un momento. Cosa? Va bene. Ma attenzione a non farti vedere da parti! Se ti vedesse sarebbe anche capace di linciarti. Ma guarda che stupidi! Ehi, Matti, guarda, sono riuscito a trovare qualcosa da bere. Ecco. Ma come, ne hai presi solo due? Sono sufficienti. Tanto siamo solamente in due a berli. Ollie e io. Cosa? Ma noi che cosa beviamo? Guardate là. Da quella fontanella potrete bere tutta l'acqua che volete. È fresca e non costa niente. Questo non è giusto. Non so, ma uno strano presentimento. Ehi, da qui, presto! Ollie! Ehi, Patty! Sono io che ho pagato da bere! Ehi, Patty, sono da questa parte. Dai, vieni! Chi è quella tipa che sta insieme a Ollie? Oh, no! Si può sapere che razza di storia è questa? Cosa stanno facendo quei due soli in disparte? Ollie, ti prego, domani lascia che sia Julian a vincere la partita. Eh? Ecco, vedi, il fatto è che Julian soffre di cuore e non potrà più giocare a calcio, lo sapevi? Non potrà più giocare! Vedi, il dottore gli ha ordinato di non fare sforzi e di cessare qualsiasi tipo di attività fisica, ma lui vuole per forza finire questo campionato. Ora capisco perché non ha mai fatto una partita tutta intera. Soltanto io e l'allenatore conosciamo il suo segreto. L'andamento dell'incontro continua ad essere in favore della Mambo. Faccio l'incontro! Faccio l'incontro! Faccio l'incontro! Faccio l'incontro! Faccio l'incontro! Faccio l'incontro! Accidenti! La Holiday riesce a recuperare un pericolosissimo pallone! Dai, Holiday! Attenti ragazzi! Il pallone è ancora in possesso del Holiday che attacca! Parte il tiro! Ed è gol! E viva! L'arbitro fischia in questo momento la fine del primo tempo. Le due squadre vanno a riposo con il risultato di parità. Non preoccupatevi, credo proprio che Julian Ross sarà costretto a giocare nel secondo tempo. Ti prego, mi fammi questo favore. E' l'ultimo campionato che Julian potrà giocare. Sarebbe così bello se potessi vincerlo. Per favore, Ollie, cerca di aiutarlo tu. Non posso farlo. Ma perché? Vedi, anch'io voglio vincere questo campionato. Se ci riesco potrò finalmente realizzare il mio sogno, che è quello di andare in Brasile con Roberto. Capisci, eh? In Brasile? Il Brasile è la patria del calcio. Là io potrò diventare un calciatore professionista. Per questo non posso permettermi di perdere, anche se è per Julian. Cerca di capire, Emi. In ogni caso, credo che a Julian farebbe molto più piacere se io giocassi come sempre. E' giusto così? Oh, Oliver. Davidei ha segnato un altro gol. E adesso la situazione è ribaltata. E' la Mambo che deve inseguire il pareggio quando mancano pochi minuti alla conclusione dell'incontro. I giocatori sembrano molto affaticati. Chissà se ce la faranno. Ma che sta combinando la Mambo? Non riesco proprio a credere che domani giocheremo contro l'Holiday. Mister. Entro in campo. Sì, penso che sia la cosa più giusta da fare. Ma cerca di non affaticarti troppo. E appena senti che c'è qualcosa che non va, torna subito qui in panchina. Ma intesi? Sì, intesi. Si trattava di qualcosa di importante. La Mambo Football Club effettua una sostituzione. Al posto di Jennings entrerà Julian Ross. Finalmente. Sembra che la Mambo si sia decisa a far entrare in campo il proprio capitano Julian Ross. Ecco Julian che entra in campo finalmente. Oh, Julian. Capitano. Oh, signora. Julian. Julian, Emy mi ha chiesto di farti vincere domani. Se anche tu ami il calcio come lo amo io, sono certo che capirai il motivo del mio rifiuto. Voglio giocare con te una partita alla pari. Capisci, vero? Forza, Julian! Metticela tutta! Forza!